Grazie Presidente Pittella. Così come ho votato a favore del dossier Cozzolino, col quale mi complimento, ho votato a favore del dossier Vagan sull'ottimizzazione del ruolo dell'assetto territoriale nella politica di coesione. Infatti occorre creare energie tra i programmi di finanziamento dell'Unione, compresi nel quadro strategico comune. Solo una visione complessiva dei problemi e un approccio politico integrato con un'attuazione integrata dei programmi di finanziamento potranno determinare l'efficacia dei fondi dell'Unione a livello locale e regionale. Per comprendere e fare un esempio basti pensare ai fondi strutturali e ai fonti Horizon 2020, che dovrebbero poter entrambi applicarsi a progetti che mirano a rafforzare uno degli elementi principali sui quali ci stiamo concentrando, ovvero la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, una delle priorità che, come dicevo prima, ci siamo dati tra gli undici obiettivi tematici principali. È necessario dunque che gli strumenti suggeriti dalla Commissione per incoraggiare maggiori sinergie tra i fondi siano sostenuti da meccanismi di attuazione concreti a livello regionale e locale.